A un mese esatto dall'entrata in funzione c'è massima soddisfazione a palestro per il funzionamento dei sanificatori d'aria installati durante le vacanze di Natale nelle scuole. Il centro Lomellino è stato il primo in Italia, insieme a un altro comune della provincia di Torino, ad assicurarsi gli apparecchi prodotti da una ditta veneta sulla base di una tecnologia sviluppata dalla NASA e fino a quel momento utilizzata solo nell'industria alimentare. Il sistema è rivoluzionario, si basa su degli ioni immessi nell'aria che impediscono la riproduzione di virus, batteri e muffe. Basta accendere il macchinario e funziona senza la necessità di tenere finestre aperte. Una tecnologia abbastanza innovativa di derivazione aerospaziale, viene utilizzata dalla NASA su navicelle spaziali e quant'altro, dove naturalmente non potendo aprire le finestre si ha la necessità di contaminare l'ambiente dall'interno. Le macchine funzionano con un sistema tra virgolette abbastanza semplice di fotocatalisi. Questa fotocatalisi all'interno della macchina emette degli ioni che sono poi dispersi nell'ambiente e questi ioni hanno la capacità, una forte capacità di abbattere, come dicevamo prima, muffe, batteri e naturalmente la macchina è certificata per il virus del covid. Il comune di Palestro ha finora installato una ventina di apparecchi, una in ciascuna aula di scuole elementari, scuole medie e asilo, le altre in municipio. La ditta ha testato il macchinario analizzando con le piastre di cultura le tipologie di virus, batteri e muffe presenti nei locali, osservando come all'azionamento le impurità venivano distrutte in percentuali superiori al 95%. E abbiamo rifatto con le macchine accese le piastre di cultura e così abbiamo potuto verificare che con queste piccole macchine in funzione l'abbattimento dei virus, dei batteri che avevamo analizzato precedentemente, sia arrivato ad un abbattimento di circa il 95-98%. Una volta che la macchina è entrata in funzione l'eliminazione dell'impurità è istantanea. Con questo sistema, secondo quanto affermato dagli installatori, si potrebbe addirittura fare a meno delle mascherine. La macchina una volta che ha ionizzato l'ambiente, nessun tipo di virus o batteri è capace di riprodursi. Quindi anche solo respirando o starnutendo all'emissione di particelle, la macchina immediatamente va ad abbatterle e ad uccidere qualsiasi tipo di questi batteri, di questi virus. Quindi la sicurezza per i bambini, per le maestre, noi le abbiamo anche sul lato negli edifici comunali, quindi anche per i dipendenti comunali, per il pubblico è assolutamente garantita. Tutti potrebbero stare tranquillamente senza la mascherina. Gli apparecchi acquistati dal comune di Palestro servono un volume di 300 metri cubi. Costano da listino 800 euro l'uno e non necessitano di manutenzione, salvo il cambio di una componente ogni tre anni. La fornitura, che ha beneficiato di un forte sconto, visto il gran numero di dispositivi ordinati, è stata pagata con fondi statali per l'emergenza Covid che sono stati integrati da un finanziamento comunale. Il prossimo passo sarà portare i dispositivi anche in casa di riposo. Abbiamo ormai intrapreso questa strada che abbiamo visto che ha dato dei risultati importanti, quindi abbiamo deciso per la sicurezza dei nostri anziani di installare le macchine anche nella nostra RSA.